Stine 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 9idrami 7idrami 10idrami 5,000 3,000 8idrami ... ... la gente che ha detto anche alla fine del miettell. quali le caratteristiche? le caratteristiche, non lo so, non lo so. le caratteristiche hanno seguito l'armi. non lo so, non lo so. le caratteristiche, le caratteristiche, le caratteristiche, le caratteristiche, la mia cibo, il reso di ربي. abbiamo tutti i campini. Non ci cosa ci sono, ci sono dei lavori, Ci sono persone che viviamo in questo caso, quindi oggi si è iniziato a fare la terra, quindi non si è iniziato a fare la terra, non c'è una cena, non è iniziato a fare la terra, ci sono tutte le persone che vanno a fare la terra, mi ha fatto un'argo veramente, ma non c'è un'argo, ma non c'è un'argo tutto in maniera, mi ha fatto una cucina, non c'è un'argo tutto, ma non c'è un'argo dell'argo, erano le persone che stanno in fronte con il 460 euro. Ma cosa vuoi andare dare con il nostro poteo? Voi andare dal potere o l'arrivo? Il poteo il potere a un'arrivo. Non ci sono stata i poteo che accettano alla banca, a un'arrivo, a un'arrivo. Ma cosa ci sono? Allah, l'apremità del nostro corso, l'apremità delle persone che hanno riuscito a lavorare a Fürse e all'argo del nostro corso, e nell'azio della scena, l'apremità delle persone che ha avuto anche rispondoso. Tutto tutto è crescendo, o cosa stanno che crescere dal loro appokassino? Sì, tutto è crescere. Tutto tutto è crescendo, tutte le nostre corso che fanno crescere. Grazie a tutti non ha mai chiamato il nostro lavoro con un buon giorno stiamo cercando di fare tutte le persone che sono cercano di fare più basso il stato il buon giorno la laurea del parco si è concentrate sulle le persone che sono rilassolate 70-60€ Se un soldato è 30-60€ Ci sono stati di vendere al riso Questa è arrivata la forza sulle prime e 20€ Ma cosa devono fare? E' un'attività che c'è un'attività C'è un'attività che si vede dentro Drowiche è una domani che ci sono nella scena Non c'è un'attività Drowiche che si riconosce per la pernate Due a un'attività 140€ Come si vede? Come si si vede? E' un'attività di farlo La mia famiglia è fatta la mia famiglia. Che cosa fa? Iniziamo tutti i riei della Commissione, iniziamo tutti i riemi di amici. Noi, non c'è nulla Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla o c'è nulla, o c'è nulla, o c'è nulla Noi, siamo i popoli, non c'è nulla Noi abbiamo chiesto di fare un'intentichà, un'intenziale, non c'è nulla Non c'è nulla, non c'è nulla Se volete fare un po' di più, se volete fare un po' di più. ... Presidente che è chiatta la mia cita, mi piaceva tutta una mia cita, ma che volete volto? Perché la mia cita? Poi quello che hai avuto? Poi la mia zahrotta, ma non è una illa perché ho convinto il mio cosi, io ho channo il mio cittadino, l'abbiamo in un caso Non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è nulla.